Alberto Rigo, prima partita in casa, nuova squadra, come ti sei trovato? Un bel ambiente, compagni mi sono trovato subito bene, qualcuno lo conoscevo già è stato bello anche vedere il palazzetto abbastanza pieno, è stata una bella emozione essere in pista con un sacco di tifosi e di piccoli tifosi sugli spalti Esattamente, una partita non facile, soprattutto un primo tempo molto studiato per poi anche diciamo quasi dilagare Sì, il primo tempo la partita era stata lì, siamo andati sopra di un gol, ci hanno ripreso ci siamo riusciti a finire, andare al riposo con un gol di vantaggio poi il secondo tempo siamo stati più cini sotto porta, siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e direi una buona prostazione della squadra comunque da partire da qua e andare avanti e migliorare Certamente, grazie e in bocca al lupo per i prossimi incontri